Sono state 25.776.659 le ore complessive di cassa integrazione autorizzata dall'Inps in Abruzzo da gennaio a settembre del 2014, ore che pongono la nostra regione tra le 5 nelle quali il ricorso alla cassa integrazione da parte dell'azienda è cresciuto di più, assieme a Valle d'Aosta, Basilicata, Friuli e Sardegna. Questi numeri, già di per sé impressionanti, secondo la CGL che li ha diffusi, sarebbero sottostimati perché non comprenderebbero il calcolo delle ore della cassa integrazione, i cui pagamenti sono fermi a marzo del 2014 e quelle della mobilità in deroga ferma a febbraio di quest'anno. La CGL per questo chiede al governo il rispetto degli impegni assunti per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali con 720 milioni di euro, di cui, scrive in una nota del sindacato, ancora non c'è traccia. La quota parte del finanziamento nazionale che dovrebbe arrivare in Abruzzo è abbastanza cospicua, circa 23 milioni di euro, una somma però continua la CGL, sufficiente a pagare solo fino al mese di luglio cassa integrazione e mobilità in deroga. Affinché possa essere saldato l'ultimo periodo dell'anno, continua la nota del sindacato, ci vuole uno sforzo economico suppletivo e l'impegno da parte dei parlamentari abruzzesi e del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, al quale CGL e Cislewil hanno chiesto già un incontro per realizzare una convenzione con le banche affinché anticipino le indenità degli ammortizzatori sociali ai lavoratori. L'obiettivo dei sindacati comunque è quello di fare pressione sul governo Renzi per evitare che circa 5 mila lavoratori abruzzesi restino senza reddito proprio in prossimità delle festività natalizie.